Salve a tutti, ci ritroviamo venerdì dopo l'Europa League parlare noi sicuramente con orgoglio dell'Atalanta che è riuscita a passare il turno ma sinceramente non so di essere molto contento invece per le altre squadre italiane soprattutto per il Napoli che ha subito una sonora sconfitta purtroppo da Barcellona che sinceramente visto la struttura dell'Europa League di quest'anno va bene all'Atalanta che non debba incontrare le vincenti di questi sedicesimi o di questi pareggi come si vogliono chiamare questo perché secondo me Barcellona è una grande squadra non ho visto il pareggio del Napoli a Barcellona sicuramente comunque ha avuto un po' di difficoltà però ieri ha fatto vedere che di essere ancora una bellissima squadra e quindi sicuramente è da temere nell'incorsa a questa Coppa di cui dicono che l'Atalanta potrebbe essere una delle contendenti oltre a loro c'è un'altra squadra che è il nostro ex Papu Gomez secondo me al Siviglia anche un'altra pretendente arrivando dalla Champions comunque ma un'altra pretendente possibile per l'Europa League la struttura quindi ci consente di evitarla nelle ottavi e magari trovare una squadra perché sicuramente nelle prime del girone l'Europa League sono un po' più abbordabili rispetto a quelle che ho appena citato ma parlando della partita di ieri l'Atalanta non ha avuto alcuna difficoltà a portarsi a casa il risultato positivo anche fuori casa quindi ad Atene e c'è stata una esile reazione all'inizio della partita da parte dell'Olimpia per poi vedere una partita decisamente dominata dall'Atalanta poi è arrivato poi il gol di Mele oltre alla bravura ma anche all'astuzia avendo messo il piedino tra il portiere e il difensore e nel secondo tempo abbiamo dilagato con due grandissimi gol di Malinowski a cui diamo il merito oltre ad essere solidali con la sua gente quello che sta succedendo in Ucraina a proposito guardando appunto anche un youtuber del Napoli ricordavo appunto che c'è stato Napoli Barcellona due anni fa nel febbraio 2020 è arrivata la pandemia e proprio ieri dicevano dobbiamo rivedere Napoli Barcellona e la mattina è successo quello che è successo purtroppo in Ucraina speriamo nelle premesse dopo un giorno di guerra sembra che comunque le cose debbano essere almeno per noi europei purtroppo non per gli ucranici di cui ripeto siamo molto vicini forse dovrebbero fermarsi lì speriamo tutti perché in questo periodo sicuramente dopo tutto quello che abbiamo passato in questi due anni non ci vuole anche una cosa ancora peggiore cambiamo discorso comunque per quanto riguarda appunto volevo dire anche oltre all'Atalanta che comunque ha portato a casa il suo risultato aspetta oggi di vedere l'avversaria negli ottavi Lazio ha fatto la sua partita ha cercato di portarsi a casa il risultato ma purtroppo con il pareggio è dovuta uscire anche la Lazio rimasta quindi solo l'Atalanta sinceramente siamo contenti come l'Atalantini ma spiace non vedere altre squadre italiane nella competizione rimane la Roma nella Conference League poi vedremo la Champions League il ritorno che saranno appunto nelle stesse giornate in cui si giocheranno gli ottavi di Europa League ovviamente il martedì e il mercoledì guardiamo quindi oggi a mezzogiorno ci saranno i sorteggi chi saranno le squadre che dovranno guardarsi questo sorteggio per vedere la sfidante agli ottavi le teste di serie quindi sono le prime del dirone Europa League e quindi quelle che dovrà incontrare appunto l'Atalanta le non teste di serie sono quelle che hanno vinto i sedicesimi ieri e quindi non si incontreranno tra di loro ma dovranno per forza sfidare una delle prime classificate le prime classificate giocano fuori casa il ritorno facciamo una lettura delle teste di serie sono la Stella Roscia l'Eintracht Flaccoforte del nostro l'Amers che è in prestito all'Eintracht il Galatasaray Bayer Leverkusen Lione Monaco lo Spark Mosca e West Ham sono delle squadre sicuramente di certo grosso rispetto però non sono abbastanza abbordabili per quanto riguarda l'Atalanta e il suo gioco sperando poi di recuperare qualcuno in attacco perché ne abbiamo proprio bisogno tra di queste vedo un po' di più difficili Bayer Leverkusen che è sempre arrivato abbastanza bene in Europa League West Ham sicuramente una squadra inglese è ostica anche se noi in Inghilterra abbiamo sempre fatto abbastanza bene lo Spartak Mosca è tutta un'incognita lì perché adesso stanno parlando anche di eliminare quindi chi prenderà lo Spartak Mosca non si sa come andrà a finire la cosa se lo sostituiranno oppure se rimarranno ancora loro se si cambieranno le cose speriamo che si cambino appunto questa sia l'opzione più 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 gradita a tutti e degli altri certo sì comunque sono delle grandi squadre bisogna sicuramente giocarsi perché Lione Monaco in realtà sarà insomma parliamo di squadre che di un certo di un certo livello d'altra parte comunque arriviamo a giocarci gli ottavi e quindi sicuramente le squadre non sono facili nelle note stesse di serie abbiamo Siviglia Porto Atalanta Lipsia Barcellona i Glasgow Rangers che hanno eliminato a sorpresa Borussia Dortmund il Betis Siviglia e Braga quindi quasi tutti della penisola perché vedo Siviglia Porto Braga Betis Siviglia e Barcellona praticamente sono quasi Spagna e Portogallo quasi tutti della penisola iberica rimane appunto l'Atalanta l'Ipsia che lo conosciamo già comunque una grande grossa squadra e tra DS e Greg Joe Rangers che comunque appunto anche loro sono un'incognita hanno eliminato in che modo il Borussia Dortmund perché comunque non è semplicemente in due partite non è certo una squadra facile da battere quindi io dico che nelle non testi di serie ci sono delle pretendenti ancora più importanti e quindi non incontrarle negli ottavi di finale e magari confrontarci con altre squadre sicuramente è meglio rispetto ad esempio incontrare un Barcellona che ho visto ieri con Napoli che sinceramente è una forza poi non come dire si giocano tutte come si giocano tutte in campionato come si gioca con la Salernitana o le ultime in classifica di Colatalana non bisogna mai screditare non bisogna mai dire che alcune sono facili e altre sono difficili bisogna sempre giocarsela quindi stiamo a vedere oggi chi prenderemo oggi è mezzogiorno e poi riprenderemo con la testa al campionato avremo una Sampdoria che è sempre stata ostica in casa e poi avremo anche una sfida con la Roma all'Olimpico fra una decina di giorni